In italiano Cristian? Ormai siamo esperti. Allora, ma che gara ci hai tirato fuori al penultimo giro? Cosa ti sei inventato? Abbiamo cominciato la gara con buona piedi, è partito terzo, dopo ho spinto Dean e Bezel, dopo ho spinto Dean, ho spinto Bezel per andare un pochino via, però ho visto che non possiamo andare, allora il penultimo giro si è passato l'ultimo tornante e l'ultimo giro è chiuso bene. Hai chiuso molto bene, non è facile, di solito tu preferisci cominciare l'ultimo giro da primo o essere dietro per poter sorpassare? Perché non è facile soprattutto nella vostra categoria? È facile perché l'ultimo giro potrei fare qualcosa, quello che è uguale tutto. Però quando hai visto che non scappavate hai deciso di attaccare qua la staccata ai meccanici? Sì. Bene, complimenti Cristian, grande.